L'Epifania è considerata generalmente una festa per i più piccoli. Lei dal palco ha detto una cosa che mi ha molto colpito, cioè i bambini rappresentano la speranza del nostro futuro. Qual è il suo messaggio e cosa rappresenta l'Epifania? L'Epifania rappresenta proprio questo incontro di Cristo con tutta l'umanità. E noi ancora oggi portiamo avanti questo ideale che come ci ricorda tantissimo Papa Francesco è un ideale di vera gioia, è un ideale di incontro, un ideale che perfeziona la nostra umanità. E oggi abbiamo scelto proprio di stare vicino ai bambini con questa associazione che realmente ha saputo incarnare questo coinvolgimento con i più piccoli e con le famiglie. Proprio per come abbiamo ricordato c'è quella gioia che diventa anche per noi motivo di essere costruttori, motivo di guardare ai piccoli, però per costruire il nostro domani, per costruire il nostro futuro, proprio un futuro da consegnare ricco di speranze e di cose belle. Tutto questo fatto in nome proprio della nostra fede, in nome di Gesù Cristo. Ecco, quindi cosa dire a questi piccoli che crescono? Questi piccoli che crescono noi diamo un messaggio di forza, di gioia e di coraggio. Forza e coraggio che sia un motto non che ci rimanda solamente a qualche etichetta, ma sia realmente un qualcosa da vivere. Quel coraggio che hanno avuto i Maggi nell'affrontare un duro cammino, ma alla fine guidati e illuminati dalla stella hanno saputo realmente vivere la bellezza di un incontro, la bellezza che ha saputo travolgere e migliorare la vita. Il giorno dell'Epifania, un evento organizzato proprio per i più piccoli, perché sono loro i protagonisti di questa giornata? Abbiamo avuto l'opportunità di incontrare delle associazioni di Palermo che sono state veramente eccezionali e che hanno immediatamente accolto il nostro invito e noi abbiamo accolto anche l'invito da parte loro. Abbiamo parlato con Don Giuseppe che ci ha dato la disponibilità dei locali e quindi si è organizzata questa giornata. Crescere Insieme è un'associazione non profit di Palermo che svolge questo tipo di volontariato, così come anche il Comitato Cittadini di Palermo. E nelle persone del Giovanni Geloso, l'Avvocato Sapienza e tante altre persone che abbiamo conosciuto in questi giorni, assieme a Maria Grazia Motisi, al Consigliere Bonni e a Piero Sollena. E quindi ci hanno proposto questo spettacolo e abbiamo, di rispetto, accettato volentieri ed è stato uno spettacolo veramente eccezionale. I bambini si sono divertiti e poi c'è stato uno spettacolo anche per gli adulti alle ore 19, anche questo è stato uno spettacolo con artisti di strada molto interessante. E sicuramente questo sarà l'inizio di un rapporto di collaborazione che ristoreremo appunto con queste associazioni. Cosa rappresenta l'Epifania quindi? L'Epifania è un momento dedicato principalmente ai nostri bambini, ai nostri piccoli, ma non per niente anche gli adulti hanno possibilità di godere e di divertirci. L'obiettivo che ci poniamo noi è quello appunto di portare un messaggio di serenità e di pace, siamo in ambito religioso, quindi un momento anche questo di religioso. Quindi ci auguriamo che sia stato di gradimento e speriamo anche nel prossimo futuro di poter continuare questa collaborazione sia con l'Associazione Crescere Insieme che con i comitati civici che mi onoro di rappresentare qua su Partinigo e Montelepre. Quindi abbiamo avuto veramente nei consiglieri un'apertura per poter manifestare quelle che sono il nostro modo di vivere e di intendere il sociale. E speriamo di poter continuare a farlo anche nei prossimi mesi. Quindi un evento organizzato per i più piccoli. Qual è il suo mensaggio a questi bambini comunque che crescono? Crescono, ma anche noi adulti ci siamo divertiti, siamo anche noi tornati un po' bambini perché poi quello che conta fondamentalmente è la gioia. Io oggi ho scritto che non c'è niente di più bello che vedere la gioia negli occhi dei bambini, nei loro gesti, nei loro sorrisi. E noi abbiamo voluto regalare oggi questo, un momento di gioia, grandi e piccini perché tornare un po' bambini a noi adulti fa anche bene perché riscopriamo quale sono la vera essenza della vita, cioè lo stare insieme agli altri, condividere un momento di gioia insieme agli altri. E oggi in un momento così difficile, quello che stiamo vivendo per tante ragioni, questo ci aiuta a capire meglio cos'è importante nella vita. Da Palermo a Partinico quindi per donare un sorriso ai più piccoli. Assolutamente sì, un sorriso per i più piccoli ma anche, come ha detto Maria Grazia, ai più grandi. La prima volta che scendiamo qui a Partinico, saliamo, a secondo da che punto lo vediamo la cartina naturalmente. Quindi con piacere siamo stati protagonisti oggi di questa magnifica manifestazione. Spero ci siano altre occasioni, appunto come ho detto da Palermo ci siamo spostati qua portando una parte dello spettacolo che Crescere Insieme mette in scena. Abbiamo girato un po' tutta Palermo ormai, stiamo girando per le province. Quindi grazie a chi ci ha voluto accogliere qui a Partinico spero, appunto come dicevo prima, che ci siano altre occasioni per portare le iniziative di Crescere Insieme dei Comitati Civici qui a Partinico perché ritengo che ci siano le condizioni per poterle mettere in pratica. Quindi grazie di vero cuore. Possiamo proprio definire quest'evento un dono alla città e ai più piccoli? Sì, sicuramente. Intanto bisogna sottolineare che è a scopo gratuito, quindi non ci sono spese da parte nostra. Un ringraziamento va ancora all'Associazione che ci ha offerto questo bellissimo spettacolo. Siccome quest'anno si è fatto qualche cosa in piazza, sia per Natale che per Capodanno, noi abbiamo voluto fare questo spettacolo nella Chiesa Madre Maria Santissima del Rosario grazie a Giovanni Geloso, grazie all'Avvocato Sapienza che ci ha offerto questo spettacolo gratuitamente e veramente siamo rimasti spettacolari. È un spettacolo bellissimo, bellissimo, bellissimo. Basta quindi veramente poco per coinvolgere tutti e donare un sorriso e un attimo di serenità? Basta poco anche a livello di spese. Come abbiamo potuto constatare, questo spettacolo non è costato migliaia di soldi. È costato semplicemente l'impegno di persone che hanno voluto realizzare questo evento. Io posso so sottolineare, il Presidente dell'Associazione di cui faccio parte, Maria Grazia Motisi, che quando lei organizza qualche cosa chiaramente mi cerca ed io do il mio contributo. Non ci fermeremo qui chiaramente come associazione. Abbiamo già realizzato dei cortometraggi, ne faremo ancora tantissimi altri. Faremo ancora tante altre cose per rendere il Paese di Partenico ancora più allegro e più brillante.